Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video collaborazione con il sito Temu, c'è anche l'app bellissima e non sono molto eforica per questa collaborazione, quindi andiamo subito al sodo No, la foto ci sennò non si è scappata Ah ok, non vedevo l'ora che arrivava questo pacco perché il sito è stupendo infatti ci siamo scaricate subito l'app Io ce l'avevo già acquistato Ah vedi, no, io no, è la prima volta, devo dire la verità Ha delle cose carinissime per la casa, abbigliamento, un po' di tutto Vai, 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 vediamo, vediamo Vediamo l'apertura del pacco Wow, mega pacco per noi, guardate quante cosine Allora, vediamo un po' Iniziamo, iniziamo Passaci pure le cose Emma ci passa i prodotti Vai, il primo prodotto Spacchettamento Vediamo Una cosa dura Ah, che bello Ovviamente poi vi lascio le foto anche sui social Vediamo Ah, ecco un portacard Un portafoglio Un portafoglio E si mettono anche le card All'interno Lasciamolo vedere aperto Allora, davanti c'è il cuoricino Nero Lei l'ha scelto nero Le card Ok, sì Qui si può mettere la foto Bellissimo Ovviamente vi metto tutti i link dei prodotti Così potete vedere i prezzi I colori Sono tantissimi colori Bellissimo Oh, bello Vai Emma Il secondo prodotto Sembra Natale oggi È vero Così, è una cover È il telefono Una cover per il telefono Oh, che bella Non vedo l'ora così fatta in vacanza Ah, giustamente la cover per la vacanza Che bella È la rosa Pink Rosa molto chiaro Proviamo a provare in diretta Vai, provi in diretta Metti il telefono E questo laccio Com'è bello Si mette al collo Tutto nei dettagli Questo poi lo puoi stringere Allargare Vedi? Stringi allarghi No, tu fai queste cose particolari Io non lo so Mia non ha Ma se non vinciò amore È la tua spadena Eh sì Ma questo è più bella amore È vero Ah, che carina Bello, lo metti al collo E stringi, stringi Stringi forte Stringi Ottimo Eh, così se ti serve al volo La polpa Non c'è la rosa Hai capito? Ora si fa i selfie Brava, brava Bello Bello Vediamo Terzo prodotto Emma vai Oh, abbiamo uno scatolo Che ci sarà nello scatolo Vai Che cos'è? Che ne so Che ci sei presa Eh, non mi ricordo Ah, no, è il tuo È tuo Il portadischetti Per il trucco Come vedete C'è un sito misto Cosa per i cellulari Cosa per il make-up Mi sa pure i trucchi Tiene, vero? Non lo rompere Per il tempo Questo è un portadischetti Praticamente E come si Eh no Non so Con un po' di fantasia Non è male che il tappo si mette Non si Può fare mille usi Non lo so Eccolo qua Qui dentro Vedete Qui c'è il Non fare così Vabbè, per far vedere Qui si mettono i dischetti Trasparenti Carinissimo Bello, mi piace Vai Emma Quarto prodotto Un altro Un altro Ah, hanno mandato una povera doppione Vabbè, è la stessa cover di prima È uguale? Sì No, mamma Quello è per te No, non credo Amore, io non ho l'elfono Sono povera mamma Ma è uguale Sì, no, è uguale È uguale Vabbè, avranno sbagliato sicuramente Poi lo farò presente Vabbè, Diana, ve lo chiedi Sì, no, dai Dai, un altro prodotto, amore Vediamo Che cosa sono? Anche questo, forse l'hanno mandato di proposito Hanno mandato due misure, perché? Ah, ok Fai vedere, un cinturino Per l'Apple Watch L'Apple Watch Quindi, come vedete, ripeto È un sito veramente ben fornito Ha di tutto e di più Vabbè, fammi vedere un attimo uno Che lo faccio vedere Carinissimo Sempre rosa Scusate, le unie Le rovinatissime Le due sono appena fatte Sempre su rosa Rosa chiaro Molto bello Beh, mi devo abbinare in vacanza Giustamente Ha preso tutto bello Oh, le Abbiamo un capo di abbigliamento Ho preso una canotta E un vestito Che cosa è questo colore particolare L'ho scelto io Mi sa che ha compreso una taglia Un po' eccessiva Che carina Carinissima Il colore è un po' Ma l'ho scelto io Che pezzo di sì Mi ricordavo nera Carinissima Poi vi faccio vedere indossata A fine video vi lascio qualche clip Ma amore Da 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 Wow Cos'hai presi tu? Sì, lo scelto io Apri, apri Vediamo La zia vuole rubare Sì, per forza Perché sono troppo piccoli per me Per i secondi Tutti Sono belli I due miei Fai le cose fatte bene Con la mano dietro Non si vedono Ah, brava Come sono bellini Fammeli vedere Uno, questi con le perle Sono bellissimi Sì, si guardate Eh, particolari pure Belli sono I prezzi bassissimi Proprio bassi Eh Ma non mi ricordo Questi orecchini Ma sono pochissimo Infatti a te non mi si prezzo Di tanto E' buoni Vai amore Beh, dai Dopo ci spegniamo Tanto devo fare foto Un altro scatolino Questi sono Gli acquisti suoi Che particolari Aspetta Io l'ho acquistato Questo Non abbiamo acquistato Eh, va bene Non lo so È particolare È il telefono Per la macchina Ah, questo va comodo Questo Schiacci e incastri Nelle alette Quelle dove esce Non ce l'hai le alette No, sono grosse Quelle là Queste sono le alette Dove esce l'aria condizionata E si mette là Comodo Mi piace Vediamo L'altro ha fatto un bulo Sì, comunque Fanno tutti Alla stessa fine Vai amore Vai 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 Che cosa è Questa è sempre Le cose tue strane Lei ha scelto Quali prodotti strani Dove ha fare Le cose particolari Sì, mi date il budget Che li ho speso Porta carte Ah, bello Bello il colore Sai Mi piace Sull'azzurrino Bello Fai vedere Chiuso Questo è porta Siccome ha molte carte Di credito Allora Per viaggiare Giustamente Ah, pure questi Ci hanno mandato Al doppione Belli Abbiamo due colori Ah, non levi mai No, io sono Solo uno Di orecchini Sono uguali Però Doramato Sono stupendi Dorati Mi piacciono Più pacchiani Quindi li adoro Poi cosa abbiamo Qualc'altra cosa particolare Che cosa Ah, un borsellino No, tu l'hai preso Io non ho preso niente Questi gadget Visti così Bello però Sai Bello Bello Fai vedere Carino Con la cerniera Fai vedere Sopra la cerniera Pure Il bottoncino Le carte Bello Comple Questo è che Ha tanti soldi Tiene Tutto Comple Carte Ma smetti Di dare Queste informazioni Non vere Ma ciò Pensare Su te No, vabbè Adoro Questi ericchili Sono stupendi Ah, tu sa Per te Ah, posso Spacchettare Finalmente Un bellissimo Vestitino Guardate Quanto è bellino Mi mette Una maglia No, vabbè Mi va Si, dentro Casa No, ci metto Qualcosa sotto Un bandaloncino Ma sì Anche Però Era un vestitino Ma mi mi torna Carino Con i tre bottoncini Nero Bello Bello Mi piace Dai Che cos'è No, non ho preso Io solo due cose Ho preso Di mescali Una maglietta Una canotta Ma è una carina Sì, è una canotta Questa Nera Semplice Bella No, io solo due cose Ho preso Questa è la maglietta nera Ah, ok Con la tua scelta Quindi hanno mandato Qualcosina in più Grazie Gentilissima Ah, è bella così Pure Io così La cosciera Sì, un po' più Grazie Ma è bella Perché con il pancannato È bella Io così la cosciera Nera Loro mi hanno mandato Anche verde Gentilissimi Loro Finito amore Questo è un caposterano Particolare Ah, intimo È una canotta Questo era L'ultimo prodotto La canotta Intima Ah, hai visto avanti Come è fatta Tutto trasparente È bella In questa me la posso mettere Io stasì È stanocce E niente Questi erano Ah, un altro prodotto No, la maglia Amore Questi erano tutti i prodottini Che abbiamo scelto noi Perché il sito Ovviamente ci hanno dato un budget E ne abbiamo scelto alcune cosine Comunque Se vi interessa Vi lasciamo il link qui sotto Vi lascio alcune clip Dei capi indossati E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Allora ragazzi Scusate ma io sto tutta sudata Tutta perché fa molto caldo Questa è la prima maglietta Guardate che carina Quella col nero Molto bella Anche un po' lunghetta Quindi Bella larga Comoda Allora ragazzi Ovviamente Vabbè tengo tutto sotto Questo è quello La nero Tipo a vestitino nero Questo pure per il mare Per esempio È comodo Perché non è tanto Vedete Non è tanto lungo Io non posso Scevo queste gambe Però Carino Carino Mi piace Allora Questa è bellissima Carinissima Guardate quanto è carina Vabbè Ora sto vestita tutta occhio Poi questa con Una bella collanina Un bel pantalone Tutto garbato Bella Mi piace Ma questa Ne vogliamo parlare Ma io ho questo Che da sotto No va bene Qua un bel reggiseno nero Ma è stupenda Mi piace tantissimo Poi con la bronzatura Risalta tutto Bella proprio E infine Quella lì verde Che non mi stava piacendo Ma vi dirò L'ho rivalutata Molto carina Questa è un pochino Più stretta Dell'altro Ovviamente Poi se volete sapere Le taglie Vi dico Le taglie che ho preso Anzi ora ve lo dico subito Così vi regolate Più o meno Comunque pure Carinissima Questa Allora vedete Questa qua verde E' uno XL Poi questa qua pure Quella livellata Che non ho scelto Io me l'hanno mandata Loro omaggiandomi Diciamo di più Una XL Ed è bella larga Quindi vi dirò Che le taglie Calzano larghe Quindi attenzione Vediamo le altre Un attimo Allora Ho controllato Tutti i capi E sono tutti Un XL Vi dirò Che sono molto larghi Calzano tutti larghi Quindi Regolatevi voi Secondo me Anche 0 XL Andrebbe bene Cioè nel mio caso Per dire Perché io Utilizzo Le maglie Per esempio Sempre strette Non le uso larghe Però Visto che me le hanno mandate Comunque le sfrutterò Anche perché sono bellissime Anche il cotone Mi piace tantissimo Non pensavo Devo Devo ricredermi Perché ovviamente Quando uno acquista L'abbigliamento online Non sai mai come arriva Invece sono proprio Bella e bella Una bella sciacquata E mi sono fatta L'abbigliamento estivo Che ne avevo bisogno Devo dire la verità Allora Io vi saluto E ovviamente Al prossimo video Ciao a tutti A presto Ciao a tutti A presto